buonasera a tutti amici siamo qui in compagnia di anna stiamo effettuando uno stucco e in questo caso stiamo usando lo stucco di ferrara design murano come vedete con anima scivola molto bene come loro è veramente un stucco fantastico ve lo consiglio per poter fare bene uno stucco in questo caso vi consiglio anima siamo in ricettura d'arrivo ecco manca poco e completiamo questo soffitto che vi faremo dopo vedere quando sarà completamente finito ciao a tutti